Allenamento pomeridiano per i 97 del Lossia Mare, gli allievi regionali d'elite fascia B di Mister Bellini si preparano per la prossima sfida che sarà alla Dispoli dopo la sconfitta o la partita contro l'Urbe d'Evere la scorsa settimana, i ragazzi si allenano qui quindi all'Ancomarzio con la direzione del prof Giorgio Bariato qui in Quadrano in attesa della parte poi tattica che sarà effettuata con il tecnico Bellini ecco alcuni esercizi fisici predisposti dal preparatore atletico, la classica treccia che viene effettuata avanti e indietro su questa porzione di campo dell'Ancomarzio attaccano subito quella attaccano subito quella Grazie a tutti.